Direi che il nostro background, la nostra location non lascia dubbi. Siamo nella sede di via Olivetani 2A di Wellcomed, l'ultima nata di questi centri medici per le famiglie. Tutte, come si suole sottolineare, perché qui la vocazione è una vocazione sociale. Infatti, oltre alle visite a pagamento, si creano visite sospese per permettere a chiunque di curarsi. Wellcomed è un centro medico polispecialistico con tre sedi a Milano. L'ultima sede è inaugurata la scorsa settimana in zona Sant'Ambrogio, dedicato a tutte le famiglie milanesi in tutti i sensi. Perché? Noi lavoriamo in quattro aree, medicina, psicologia, riabilitazione e servizi alla famiglia. Rivolto a tutti. In che senso? Perché non c'è differenza socio-economica all'accesso. Come? I pazienti che possono permetterselo, pagano le visite a prezzi calmierati. E tutti gli utili dell'attività e le donazioni che noi raccogliamo vanno a questo progetto che si chiama Visita Sospesa, che è volto a erogare le medesime prestazioni in totale gratuità a chi non può. Tra l'altro, appunto, avete già due centri a Milano, però avete sentito l'esigenza in questo nuovo centro di comunicare. Comunicare con i luoghi, ma non solo. E da qui la collaborazione con Francesco Emigliani, che insomma ha fatto più meglio. Ho fatto più meglio, sì. Non si dovrebbe dire, però invece in realtà lo diciamo. Ed è stato un progetto più meglio in tutti i sensi, perché comunque la grande collaborazione con Welcomed è nata ben tre anni fa, anche forse qualcosino prima, e in realtà si chiamava Medici in Famiglia. Quindi è stato un lavoro pazzesco di, non dire branding, proprio di branding, perché comunque abbiamo cambiato nome, abbiamo fatto un nuovo logo e soprattutto abbiamo lavorato con questa signora, donna, giovane, bravissima, che ha pensato bene di riprodursi in tre anni con una bimba meravigliosa e altri due gemelli. Quindi insomma, lavorare con una manager di questo tipo e tutto il suo team di lavoro è stata una scommessa pazzesca. E noi, per la prima volta, lo dico così almeno non parliamo di pesche o di frutta e verdura, però abbiamo lavorato con architetti, con elettricisti, con falegnami. È stato un lavoro pazzesco e ringrazio loro per averci dato questa opportunità. Ringrazio anche, faccio un po' di post a Remo, ringrazio Deborah Tomasino che ha lavorato con me per tutto questo progetto che è diventato una cosa vera e soprattutto è autentica e fa del bene ed è veramente lavorare più meglio in questo senso. Giulia Di Donato, amministratore delegato, insomma io mi unisco ai complimenti di Francesco anche perché avere tre figli e gestire una realtà così non è semplice, soprattutto al giorno d'oggi. Ecco, ti volevo però chiedere, perché hai sentito l'esigenza di creare comunque un'identità di comunicazione e soprattutto quanto è importante che poi gli spazi rappresentino la vocazione di questo centro? Io credo che la cosa fondamentale, soprattutto quando una persona non sta bene, ma un bambino non sta bene, la sua famiglia quindi di conseguenza riesca a sentirsi a casa ed è questo che è stato il concetto anche di umanizzazione dello spazio che ci ha guidato insieme a Francesco Emiliani e il suo team, insieme all'architetto Montervino per cercare di creare uno spazio che fosse accogliente e che non facesse sentire il bambino un paziente ma lo facesse sentire al centro di quello che è un percorso di cura e un concetto di accoglienza diverso, se così si può dire. Un progetto poliedrico perché appunto dal logo, dalla definizione addirittura del naming del centro agli spazi, alla comunicazione, abbiamo anche due film, diciamo che non è sempre così facile per la comunicazione riuscire a dialogare alto, cioè entrare nei progetti senza il brief dell'ultimo pezzettino ma proprio entrando nel merito del business stesso. Ripeto, una bellissima avventura perché secondo me è un'avventura che sta crescendo ogni volta e soprattutto abbiamo corso il rischio, che è una cosa che capita in questi progetti di cadere magari, che ne so, siamo abituati a essere sulle campagne sociali o comunque campagne che hanno dei temi sociali, a essere un po' pietistici a chiedere quasi, come dire, una mano in modo un po' supplichevole qua invece abbiamo cercato di, come diceva giustamente Giulia, di lavorare proprio un po' sulla cromoterapia quindi lavorare su far sentire non solo i bimbi ma anche noi adulti oggi siamo seduti su questi piccoli sgabelli arrivare qui e sentirsi comodi, entrare in una comfort zone e la comunicazione, abbiamo usato un tono di voce, credo, anche un po' sdrammatizzante non vogliamo essere seriosi, non vogliamo essere supplichevoli, ripeto ma vogliamo essere autentici ed essere appunto qualcosa che sul mercato in questo momento non esiste credo che il progetto in sé lo dimostri quanto è importante insomma che l'Helker guardi in questa direzione, soprattutto nel mondo contemporaneo dove parliamo di salute e di cura ma forse dove sempre più spesso non tutti possono accedervi è fondamentale, noi dovete pensare che in una città come Milano che è comunque un'eccellenza da un certo punto di vista poi il Covid ha dimostrato quello che sono le difficoltà del sistema e ogni giorno lo notiamo sempre di più i bambini hanno accesso in realtà gratuito al sistema sanitario ma purtroppo le liste d'attesa anche per problematiche banali come una visita dermatologica, una visita oculistica possono essere anche di un anno e mezzo, due anni questo che cosa succede? Che chi può va nel privato e chi non può aspetta ovviamente causando delle problematiche non solo nel momento ma anche nel lungo periodo quindi noi abbiamo cercato di creare un modello imprenditoriale che fosse diverso e che fosse in sussidiarietà al pubblico e che permettesse appunto alle famiglie tutte di avere un accesso garantito alla salute Quanto la creatività conta in tutto questo e quanto può fare più meglio? Già il fatto di dire più meglio secondo me è un grande successo perché alla fine ci sono sempre delle dinamiche come di lavorare anche sui bambini per i bambini ti poni una serie di attenzioni e di problematiche che noi siamo abituati magari a lavorare su appunto brand, su un prodotto in realtà un bambino ovviamente non è un prodotto la persona non è un prodotto quindi la creatività deve aiutare a decodificare questo messaggio ed è stata un'impresa ripeto complessa perché abbiamo fatto svariate presentazioni per arrivare a questo risultato finale però abbiamo per una volta possiamo dire che abbiamo faticato e abbiamo faticato con il sorriso Come concludiamo? Cento di questi centri? Noi in realtà speriamo di non esistere più fra 10-15 anni perché vuol dire che il sistema sanitario funziona però l'idea è nel frattempo di cercare di dare tutta l'assistenza possibile alle famiglie e ai bambini milanesi Noi in realtà speriamo di non esistere più frazze